Buonasera mister, dopo questo periodo di alti e basi finalmente è arrivata questa vittoria all'ultimo minuto contro la seconda in classifica. È stata una partita tirata, agonisticamente ben giocata da entrambi e due le compagini. Sicuramente la squadra che ha creato di più penso sia stato palese perché abbiamo avuto 3-4 palle e gol nitide dove abbiamo sbagliato al 2x2 col portiere in più di un'occasione. Loro ci hanno messo a volte in difficoltà su queste palle dalle tre quarti che mettevano dentro e ci hanno trovato in qualche occasione un po' impreparati. Però è anche vero che abbiamo saputo ribattere colpo su colpo e penso che un terzino si è fatto trovare al 93esimo quasi sulla linea di porta avversario in una ripartenza vuol dire che la gamba c'è, vuol dire che i ragazzi ci credono fino alla fine e siamo stati premiati dai tre punti. Complimenti ai ragazzi, battere gioiosa per noi era doveroso dopo qualche partita steccata e andiamo avanti con il nostro campionato.